Ciao a tutti e bentornati nel canale Fantasticamente Inge, dove oggi farò il primo tutorial sul calcolo combinatorio in Excel. Quindi non farò la spiegazione prettamente matematica, ma vi darò gli strumenti idonei a risolvere determinati tipi di problemi all'interno di Excel. Comincieremo parlando di permutazioni semplici e con ripetizione. Intanto cos'è una permutazione? È un modo di riordinare in successione un numero di oggetti, come quando andiamo ad anagrammare una parola praticamente. Quindi calcolare le permutazioni significa sostanzialmente contare i possibili gruppi ordinati che si possono formare prendendo tutti gli oggetti a disposizione. Perché ho usato il termine ordinati? Perché in ogni permutazione conterà l'ordine in cui sono disposti gli oggetti. E ciò significa che la coppia di numeri 1-2, per esempio, è diversa dalla coppia 2-1 e la terna di lettere ABC è diversa dalla terna CBA e così via. Come vediamo qui, in matematica il numero delle permutazioni semplici di n oggetti è pari a n fattoriale, cioè al prodotto del numero n per tutti i suoi antecedenti. In Excel abbiamo una funzione dedicata che fa questo calcolo e, passando a questo foglio di lavoro, vediamo che la sintassi è davvero semplicissima, cioè fattoriale, aperta parentesi tonda, num, chiusa parentesi tonda. Quindi l'unico argomento di questa funzione sarà il numero di cui vogliamo calcolare il fattoriale. Quindi banalmente, per calcolare il fattoriale di 3, vado a scrivere uguale, fattoriale, aperta parentesi, 3, chiusa parentesi, invio. E infatti ottengo 6, perché corrisponde al prodotto fa 3 per 2 per 1. Quindi calcoliamo il fattoriale di 4, alla stessa maniera, vado a scrivere fattoriale e tra parentesi il numero 4 e ottengo 24. Alla stessa maniera, fattoriale di 5, ottengo 120 e così via. Potrei continuare. Ora, questa è la funzione nuda e cruda. Per il calcolo delle permutazioni semplici, io quindi che cosa ho fatto? Per evitare di scrivere tutte le volte la funzione fattoriale, ho pensato di andarmi a costruire un foglio di lavoro, e potete tranquillamente farlo pure voi, che ha in una cella il numero degli elementi da permutare. E nella cella qui a fianco, una formula generica che fa che cosa? Preso il numero da qui, cioè da A2, va a calcolarmi il numero delle permutazioni tramite la funzione fattoriale. Quindi, andiamo a capire meglio come funziona. Quindi qui mettiamo un uguale davanti, la facciamo diventare una funzione vera e propria. Il primo quesito ci chiede di calcolare quanti anagrammi si possono fare con le lettere della parola tema. Ora, essendo quattro lettere, con un po' di pazienza, io le ho calcolate. Manualmente li ho contati e so che sono 24. Ma lo stesso risultato si può ottenere in pochissimi secondi mettendo qui il numero 4. Voilà! In C2 ci ritroviamo con il calcolo delle permutazioni semplici, 24. Altro problema. Se ho 6 libri, in quanti modi posso ordinarli su uno scaffale? Praticamente c'è da calcolare il numero delle permutazioni di 6 elementi differenti, quindi un 6 fattoriale. Vado qui, scrivo 6, premo invio e ottengo 720. Quindi esistono 720 modi differenti di ordinare 6 libri su uno scaffale. Il terzo quesito dice che in una gara partecipano 8 concorrenti. In quanti modi può presentarsi la classifica finale? Il ragionamento è analogo ai precedenti. Basterà calcolare le permutazioni di 8 elementi, quindi sostanzialmente un 8 fattoriale. Quindi vado qui, scrivo 8, premo invio e ottengo 40.320. Bene. Finora abbiamo visto il caso in cui gli oggetti da permutare sono diversi tra di loro. Ora andiamo a vedere cosa succede quando alcuni degli oggetti sui cui dobbiamo fare le permutazioni sono uguali. Per esempio, quanti anagrammi si possono fare con le lettere della parola Papa? Sostanzialmente bisogna andare a calcolare il numero di permutazioni di 4 elementi, perché in totale le lettere sono 4. Però stavolta bisognerà andare a considerare che c'è la ripetizione delle P e delle A. Queste lettere sono indistinguibili, cioè come facciamo a distinguere se la P che compare in una determinata posizione è la prima o la terza P della parola Papa. Non si può fare. Quindi è chiaro che non possiamo utilizzare la stessa formula. Perciò passiamo a quest'altro foglio e andiamo a scoprire che esiste una formula diversa per le permutazioni con ripetizione. Sostanzialmente si tratta di dividere il numero delle permutazioni di n oggetti per il numero delle permutazioni H1, H2, H3 e così via, che stanno a indicare il numero di ripetizioni dei vari elementi. Fidatevi che è più facile a farlo che a dirlo. Perché? Anche in questo caso ho creato un foglio di lavoro da usare per il calcolo delle permutazioni con ripetizioni, in cui dando in passo il numero totale degli elementi qui in A2 e il numero di elementi ripetuti in B2, ma anche in B3 e in B4 eventualmente, vado a calcolare le permutazioni con ripetizione tramite questa formula in C2. Mi sono fermata a B3, ma avrei potuto anche continuare B4, B5 e B6, se comunque ci sono altri elementi ripetuti è il caso. Ora, per esempio, andiamo a calcolare quanti anagrammi si possono fare con le lettere della parola Papa. Quindi abbiamo detto che qui si mette il numero totale degli elementi, quindi 4, perché in totale sono 4 lettere. Poi qui il numero di presenze degli elementi ripetuti. Che vuol dire? L'elemento P è ripetuto due volte, quindi mettiamo un 2. L'elemento A è ripetuto due volte, quindi anche qui andrò a mettere un 2. Premo invio, risultato 6 anagrammi. Ora, anche in questo caso avremmo potuto farlo manualmente in pochi minuti, così come ho fatto io, ma tramite questa formula sono bastati pochi secondi. Altro problema risolvibile con la stessa formula. Quanti anagrammi si possono formare con le 7 lettere della parola tattica? In questo caso la consonante T è ripetuta 3 volte, la vocale A è ripetuta 2 volte. Ora, dato che queste lettere sono fra loro indistinguibili, dobbiamo dividere le permutazioni di 7 lettere per le permutazioni della lettera t e le permutazioni della lettera A. Tutto questo calcolo lo va a fare Excel, mettendo qui il numero totale degli elementi, quindi 7. Qui quante volte è ripetuta la lettera t, quindi 3 volte. E qui le ripetizioni della lettera A, quindi 2 volte. Premo invio e scopriamo che gli anagrammi di tattica sono 420, che poi è il risultato di 7 fattoriale diviso 3 fattoriale per 2 fattoriale. Ultimo problema. Una moneta viene lanciata 8 volte. Dopo ogni lancio viene annotata una T se è uscita la testa e una C se è uscita una croce. Quindi, alla fine abbiamo una successione di 8 lettere totali. In quanti modi diversi si può presentare una successione che contiene 6 teste e 2 croci? Si tratta praticamente di calcolare la permutazione di 8 elementi con testa ripetuta 6 volte e croce ripetuta 2 volte. Quindi, qui vado a mettere 8, poi testa ripetuta 6 volte, quindi qui vado a mettere un 6, e croce ripetuta 2 volte. Scopriamo che la successione di 6 teste e 2 croci può presentarsi in 28 modi diversi. Ora, potrei farvi centinaia di altri esempi simili, ma le formule che abbiamo costruito in questi due fogli di lavoro valgono per tutti i problemi risolvibili con il calcolo delle permutazioni. Nella prossima lezione ci occuperemo del calcolo delle disposizioni. Intanto spero che questo tutorial vi sia piaciuto, vi invito perciò a lasciare un like o commento e ad iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutti i successivi caricamenti. A questo punto non mi resta che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima lezione. Grazie.